Oggi da Lucanator 05 faremo un nuovissimo video di Minecraft Pocket Edition La nostra survival Allora, andiamo nel nostro mondo Eccoci qui Oh, è in terza persona Ecco Come potete vedere il vetro c'è cotto Soltanto che qua ne è rimasto Quindi tra questi episodi perché non andiamo a parlare Io me lo sono chiesto Quindi vabbè Vabbè qua ha continuato Ora noi dovremo Non mi prendo a caso Dovemo fare il tetto e il pavimento Non abbiamo nessun Cioè non abbiamo proprio legna Quindi Prendiamo questo Tutto il necessario E Dobbiamo farci un piccone Ecco un piccone Dobbiamo farci un'ascia Quindi Oddio Mi posso prendere anche un po' di ascia No Niente un po' Vabbè ragazzi Adaprendo un attimo il legno Anzi no Lo prendo con voi No no Lo prendo con voi il legno Lo prendo Ecco qua qua Allora Prendiamo sempre questo legno Oddio aspetta Ne mangia Ok benissimo Prendiamolo Aspetta ragazzi È meglio se lo faccio off camera Ma tra poco Ecco Ecco ragazzi Sono morto Perché una strega Mi ha ucciso Però non fa niente Appena la vediamo La uccidiamo Perché vuole una pozione Avevo visto uno scheletro Prima Però dovevo andare a Cattura Avevo visto pure un cavallo Proprio giusto tre secondi Per vedere O di che paura Per vedere Ecco Dammela Grazie per la carne Ok A parte Le altre cose Andiamo A farci il nostro Carissimissimo Tetto Eccolo là Il cavallo Guardate Eccolo là Nuova cattura Comunque Qua ho cambiato Ci ho messo questi Dei slab Giusto per avvertirvi Allora Dobbiamo fare Slab Facciamo Vai Basta Così 42 Ci potranno sbastare Sì 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 Ok Non mi sono fatto Nessuno Lascere Ragazzi Perché Non volevo Sprecare Troppa legna Comunque Ragazzi Scusatemi Ancora Perché Io Non ho fatto I video Domenica E lunedì Perché Sono stato Impegnato Quindi Scusatevi Davvero Oddio Ho finito I slab Ah no Non mi posso Craftare Ancora Sì Madonna Proprio 6 Cacchio Se è giusto Non può essere Mai giusto Infatti No Niente Oh no Aspettate Che cavolo Dico Che qua Mi posso Ancora Craftare Mi faccio Tutte 6 Quando Ne abbiamo 36 36 Oddio Ecco 36 Potranno Bastare Credo Voglio No Non Voglio Essere Sfigato Ma Proprio Non è Colpa Mia Vai Di steccozza Alla mano Ecco Slab Ora Come Dovemmo Fare E questo È un Problemino Così Però Qua Sì Sì Va bene Dai Va benissimo Perché Dopo Non voglio Però Non devi Piacciare Niente A cavolo Siamo In cavolo 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 Allora Qua Così Giustissimamente Giusto E ora Come Dovemmo Fare No Così Normale Oddio Ancora Mi è Finito Andiamolo A prendere Quanto Sei Bello Posso Calcare No Vabbè Non fa Niente Lasciamo Uno stare Allora Qua Speriamo Di non Incontrare Cattivi Mob E Non andare A cavolo Con la mano Vai Prendi Prendi La legna Prendi La legna Fale Legname Posca Iolo Fale Legname Vai Prendi La legna Tata Prendi La legna Vai Oddio Sento Scheletri Se sentiamo Scheletri Sentiamo Bommio Se sentiamo Bommio Sentiamo Scheletri E Dai Oddio Aspetta Aspetta Mi sono Incastrato Smentate Ragazzi Eccolo Qua Stupido Puro L'armatura Stupido Puro L'armatura Stupido Puro L'armatura È morto Grazie Bommio Altanti Su Bommio Grazie Faremo Pure Un bel Campetto Sì Però Questo Lo faremo Più In un altro Mento Certamente Perché Ora Non ce Possiamo Permettere Troppe Troppe Cose Ci muoiono Vabbè Ho messo Questi L'ho Fatto Con la Pala Allora Vediamo Un po Come va Da qua Noi Sì Dai Sta procedendo Ben Abbiamo 8 Possiamo Fare Tutti I slab Che Vogliamo Così Ne Facciamo Giusto Due 12 Sì Due Allora Vai Qua Qua Qui Vai Aspettate Ah No Ho Sbagliato Scusate Che Sono Un po Raffreddato Ecco E Non Ci Passano Una Cacchio Perfetto Vediamo Un po Come Sì Bellissimo Dovrei vedere Da un Pillars Però Sì Dai Bellissimo Sì Mi piace Mi piace Allora Ora Dovemo fare Il pavimento La parte Più Difficile Più Faticosa Quindi Trasformiamoci Questi 28 Allora Vai Possiamo fare Pure Un misto Tipo Tipo A scacco Con Il betulla E con Questo Non Sarebbe Neanche Una Bruttina Cosa Abbiamo Una Pala Sì Che Ce Abbiamo Prima di tutto Andiamo a dormire Perché Non vogliamo Cose Brutte Ecco Grazie E dormi Ok Benissimo Andiamo qua A togliere Ok Qua C'è messo C'è messo Della Ho messo Della Andesite Qua Vai Togli Togli Tutto Vai Togli Tutto Vai 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 Togli Togli Tutto Togli Tutto Togli Tutto Togli Tutto Togli Tutto Togli Tutto Tutto Togli Comunque Ragazzi Prima Poi Dovremmo Togli Quella Cesta E faremo Magazzina Quindi Ecco Vai Le Ultime Cose Oddio Che Sbrigato Madonna Madonna Uno Stack Uno stack Cosa 35 Così Procediamo Con la Scacchiera Così Uno Dove Tre Quattro Aspetta Cinque Sei Sì Poi Qua Poi Uno Due Tre Poi Qua poi qua 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 ok benissimo raga qui qua qui qui e qua qua e qui e qua ok mi piace non mi piace pure senza betulla vabbè senza betulla che caccia ci rimango i buchi no non sia mai raga mi è finito il legno andiamo a fare un'altra volta il legno faccio off camera ragazzi aspettate ecco ragazzi credo che questo legno che ho raccolto potrebbe bastare quindi andiamo ho preso il birch il birch mi piace quindi io sto raccogliendo il legno pensavo possiamo mettere poi il dark oak soltanto che troppo scuro quindi detto meglio che no e ho rinunciato se avevamo con l'altro legno della tundra se non sarebbe stata una brutta cosa perché era lontano perché io avevo messo off camera e l'avevo trovato non era una brutta cosa però è lontanissimo lo dico io ok e non abbiamo più legno abbiamo aspetta questo qua ecco qui e poi qua poi qui qui e poi la sotto ci mettiamo quello qua 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 poi qui e qua 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 e qua 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 qui no ho sbagliato ovviamente c'è quello l'altro legno e togliti però che kaiser qua ce ne mette questo questo e questo giustissimamente giusto ok ragazzi devo fare altre betulla aspettarmi tof camera ecco ragazzi l'ho preso ne ho preso 20 potrebbero pure bastare allora vediamo un po' qua e qua a vero dopo qua ci riusciamo oh madonna sonnessi non ci riuscito cioè è incredibile cacchio non ci riuscite vai oddio precisissimi siamo stati stavolta allora ragazzi va tutto bene si tra poco devo stoppare il video stiamo andando alla grande pure sono i miei iscritti ragazzi davvero grazie perché ho 17 iscritti quindi ragazzi per questo video è tutto ciao al prossimo video di minecraft o altre cose ciao ragazzi